Ciao a tutti da Poderac e in questo video volevo aprire con voi questa busta che mi è recentemente arrivata dovrebbe trattarsi di un acquisto che ho effettuato il 25 ottobre su Amazon ovvero l'acquisto di 6 servomotori SGM90 della Sodial che ci permetteranno di appunto vedere il funzionamento di questi servi i servi sono costati veramente poco, si tratta di 6 pezzi con un totale di 11 euro circa con spedizione gratuita, l'ho acquistato il 25 ottobre ed è arrivato lunedì 16 novembre per chi fosse interessato all'acquisto può trovare il link in descrizione sotto questo video per acquistarlo se apriamo troviamo all'interno subito un'altra busta con all'interno i nostri 6 servomotori come vedete sono stati ben conservati durante la spedizione se adesso andiamo ad aprire possiamo vedere subito il servomotore come è fatto e sul suo interno possiamo vedere già 3 pezzi con 3 viti che potremo poi montarci su questi servomotori sono molto leggeri, hanno una potenza diciamo accettabile per essere utilizzati per scopi didattici appunto per quanto riguarda il prezzo irrisorio è motivato dal fatto che comunque sono più che altro costituiti con ingranaggi in plastica e non si tratta di servomotori professionali che riescono a sopportare carichi pesanti per quanto riguarda il loro giro di rotazione è di massimo 180 gradi se andiamo ad analizzare meglio il contenuto di ogni busta vedremo che al suo interno troveremo un'altra busta con 3 tipo di attacchi e 3 viti che possiamo poi avvitare sopra il servomotore qui abbiamo il nostro SGM90 con il suo filo, più che altro 3 fili che ci permetteranno poi di collegarlo ad arduino si tratta di fili con connettore femmina per quanto riguarda l'acquisto in sé sono molto soddisfatto in quanto è arrivato nei tempi previsti e inoltre ho trovato i 6 servomotori con i vari accessori senza sorprese non appena avrò la possibilità realizzerò dei video tutorial per capire il funzionamento dei servomotori mi raccomando se volete rimanere aggiornati iscrivetevi al canale e se ancora non lo avete fatto lasciate un bel like al video se vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video